Podcast numero 16 di Dizione. Benvenuti a tutti e oggi noi parleremo di ascolto attivo, parleremo di ascolto attivo ma renderemo le cose un po' più interessanti perché l'altra volta abbiamo visto come fare per leggere bene le tre regole principali per una buona lettura. Oggi invece andremo avanti con la lettura di Novecento. Il libro Novecento di Alessandro Baricco eravamo arrivati alla pagina numero 12. Ora andremo avanti. Ma la cosa importante è che io faccio queste letture per l'ascolto attivo quindi voglio che voi siate attenti nel capire gli accenti aperti, gli accenti chiusi eccetera eccetera. Ma in questa lettura per rendere le cose più interessanti vi dico un esercizio da fare che è un esercizio che tengo anche durante i miei corsi di doppiazza giudizione eccetera. Ascoltate con attenzione questa lettura perché io farò degli errori volutamente. Per facilitarvi vi dirò faccio soltanto tre errori volutamente in dizione. Ecco poi magari voi nei commenti mi scrivete qual è la sequenza degli errori che secondo voi ho fatto e così vediamo un po' chi riesce ad indovinare. Ok? Quindi mi raccomando fate attenzione. Partiamo con la lettura. A trovarlo era stato un marinaio che si chiamava Danny Budman. Lo trovò un mattino che erano già tutti scesi a Boston. Lo trovò in una scatola di cartone. Avrà avuto dieci giorni, non di più. neanche piangeva. Se ne stava silenzioso con gli occhi aperti in quello scatolone. L'avevano lasciato nella sala da ballo della prima classe sul pianoforte. Non aveva l'aria però di essere un neonato di prima classe. Quelle cose le facevano gli emigranti di solito. Partorire di nascosto da qualche parte del ponte e poi lasciare lì bambini. Mica per cattiveria. Era miseria quella. Miseria nera. Un po' come la storia dei vestiti. Salivano che avevano le pezzi al culo. Ognuno col suo vestito consumato dappertutto. L'unico che ci avevano. Poi però, dato che l'America era sempre l'America, li vedevi scendere alla fine tutti ben vestiti. Con la cravatta anche gli uomini. e i bambini con certe camiciole bianche. Insomma, ci sapevano fare. In quei venti giorni di viaggio cucivano e tagliavano. Alla fine non trovavi più una tenda sulla nave, più un lenzuolo. Niente. Si erano fatti il vestito buono per l'America. A tutta la famiglia. Potevi mica dirgli niente. Insomma, ogni tanto ci scappava anche il bambino, che per un emigrante è una bocca in più da sfamare e un sacco di grane all'ufficio immigrazione. Li lasciavano sulla nave. In cambio delle tende e delle lenzuola, in certo senso. Con quel bambino doveva essere andata così. Dovevano essersi fatti un ragionamento. Se lo lasciamo sul pianoforte a coda, nella sala da ballo di prima classe, magari lo prende qualche riccone e sarà felice tutta la vita. Era un buon piano. Funzionò a metà. Non diventò ricco, ma pianista sì. Il migliore, giuro. Il migliore. Comunque, il vecchio Budman lo trovò là. Cercò qualcosa che dicesse chi era, ma trovò solo una scritta sul cartone della scatola, stampata con inchiostro blu. T.D. Limoni. C'era anche una specie di disegno di un limone. Blu anche lui. Danny era un negro di Filadelfia. Un gigante duomo che era una meraviglia. Pigliò il bambino in braccio e gli disse «Hello, Lemon!» e gli scattò qualcosa dentro. Qualcosa come la sensazione che era diventato padre. Per tutta la vita continuò a sostenere che quel T.D. significava evidentemente «Thanks, Danny!» Grazie, Danny. Era assurdo, ma lui ci credeva davvero. L'avevano lasciato lì per lui, quel bambino. Ne era convinto. T.D. Thanks, Danny. Un giorno gli portarono un giornale su cui c'era la reclame di un uomo con un faccione idiota e dei baffi fini fini dalla teen lover. E c'era disegnato un limone grande così. E vicino alla scritta diceva «Tano D'Amato, il re dei limoni. Tano D'Amato, limoni da re». E non so quale attestato o premio o cosa. Tano D'Amato. Il vecchio Budman non fece una piega. «Chi è questo frocio?» chiese. E si fece dare il giornale perché di fianco alla reclame c'erano i risultati delle corse. Non che ci giocassi alle corse. Gli piacevano i nomi dei cavalli. Tutto lì. Aveva una vera passione. Ti diceva sempre «Senti questo, questo qui. Ha corso ieri a Cleveland. Senti qua. L'hanno chiamato cerchi grane, capisci? Ma è possibile. E questo? Guarda, meglio prima. Non c'è da morire. Insomma, gli piacevano i nomi dei cavalli. C'aveva quella passione. Di chi vinceva non gliene importava un cazzo. Erano i nomi che gli piacevano». A quel bambino incominciò a dare il suo di nome. Danny Budman. L'unica vanità che si concesse in tutta la vita. Poi ci aggiunse T. D. Lemon, proprio uguale alla scritta che c'era sulla scatola di cartone, perché diceva che faceva fine avere delle lettere in mezzo al nome. «Tutti gli avvocati ce l'hanno», confermò Barty Bam, un macchinista che era finito in galera grazie a un avvocato che si chiamava John P. T. K. Wunder. «Se fa l'avvocato lo ammazzo», sentenziò il vecchio Budman. Però poi le due iniziali ce le lasciò nel nome. E così venne fuori Danny Budman T. D. Lemon. Era un bel nome. Lo studiarono un po', ripetendolo a bassa voce, il vecchio Danny e gli altri, giù in sala macchine, con le macchine spente, a mollo nel porto di Boston. «Un bel nome», disse alla fine il vecchio Budman. «Però gli manca qualcosa. Gli manca un gran finale». Era vero. Gli mancava un gran finale. «Aggiungiamo martedì», disse Sam Stahl, che faceva il cameriere. «L'hai trovato martedì? Chiamolo martedì». Danny ci pensò un po', poi sorrise. «E' un'idea buona, Sam. L'ho trovato nel primo anno di questo nuovo fottutissimo secolo, no? Lo chiamerò Novecento». Novecento? Novecento. «Ma è un numero. Era un numero. Adesso è un nome. Danny Budman T. D. Lemon Novecento». «È perfetto. È bellissimo. Un gran nome, Cristo. Davvero un gran nome. Andrà lontano con un nome così». Si chinarono sulla scatola di cartone. Danny Budman T. D. Lemon Novecento li guardò e sorrise. Loro rimasero di stucco. Nessuno si aspettava che un bambino così piccolo potesse fare tutta quella merda. Siete riusciti a individuare i tre errori? Ecco, se siete riusciti, scrivetelo nei commenti e poi io vi risponderò se è giusto oppure è sbagliato. Beh, anche per oggi il nostro podcast è giunto al termine. Siamo arrivati a pagina 18. Andremo avanti nelle prossime settimane, però nel frattempo fate un buon ascoltativo e cercate di capire anche gli errori, non solo i punti a favore, perché ricordate che l'errore dell'altro può essere una risorsa per voi, per il vostro ascolto attivo, perché dovete rendervi conto dell'errore, correggerlo mentalmente in modo da avere una memoria più pronta anche a livello vocale sull'errore appena sentito.